Signore e signori, Galio full AP è più broken della merda? Lo scopriremo in questo video. Ciao pisciazze, sono Kerenis e come vedete il ping qui è abbastanza alto, quindi non potremo provarlo in una normal nel PBE, ma lo proveremo nello strumento di allenamento che abbiamo tutto quello che ci serve per testare i suoi damage. Non ho ancora comprato nessun item AP, ma date un'occhiata alla Q scala di AP, la V no, la E scala di AP, la ulti scala di AP e anche la passiva scala di AP. Insomma, tutto quanto scala di AP su Galio, il che lo rende AP. Doran Ring e Pozze sarà il nostro start, più o meno la build, anzi non più o meno, è praticamente la stessa build di Blitzcrank AP, se vogliamo trollare con Galio, eh. Allora, come primo spell, secondo me la Q è meglio, perché si può poccare un po' dalla distanza e fa comunque più danni, ed è anche la spell che maxeremo. Da livello 2 in poi inizieremo a stare la combo base, ossia lanceremo prima la Q e poi ci lanceremo dentro con la E. La E inoltre applica anche la passiva, perché il secondo colpo, quello che butta a terra, applica gli effetti sul colpo, il che è la passiva, facendo danni magici sul colpo. E secondo voi, quale bellissimo item si applica con gli effetti sul colpo? Il primo item da chiudere sarà la Lich Bane, proprio come Blitzcrank AP. Guardate quanto danno fa applicando la Lich Bane sul colpo. Eh? Perché applica la Lich Bane più il suo attacco base. È broken. Magari non all'inizio che la Lich Bane scalla poco, ma fidatevi che in late game questa combo sarà forte. Una combo con un solo tasso, tra l'altro. Purtroppo, però, la ultimate non è nostra amica, in quanto, forse molti non lo sanno, ma la ulti non può essere lanciata in qualsiasi punto della mappa come Pantheon. La ulti di Galio si può fare solo bersagliando un alleato. La ultimate la useremo soltanto per stillare qualche kill al mid laner o andando ad aiutare un pochino la bot lane, perché noi trolleremo. Prima, però, avevo le rune e le maestrie da AD Tank. Non vi ho fatto vedere realmente cosa dovremmo metterci tra le rune e le maestrie. Tra le rune metteremo marchi resistenza magica. Questo lo consiglio anche nel client normale, eh, quando volete trollare con qualcuno. Perché i glifi, quelli blu, di AP, scalano molto di più. I marchi, invece, non danno AP. Al massimo potete mettervi penetrazione magica. Ma che cazzo ve ne fate la penetrazione magica? Vi comprate una voice, staff 35% di penetrazione e siete dei negri. Per le maestrie, ovviamente, via sta merda Tank. Che cazzo ce ne facciamo di sta roba. Le maestrie, ovviamente, come qualsiasi trollata. Il Thunderlord, il Thunderlord del punto di riferimento del non so che cazzo fare. Tanto va sempre bene, sempre Brogan. Immaginate, siamo a livello 7, siamo ancora in lane. Abbiamo buildato la Leech Bane, ho preso anche il Rabaton. Ho un po' esagerato, è vero, ma testiamo i danni con solo due item chiusi. Allora, la combo ricordate prima la Q e poi la E. Vediamo quanti sfaccimma di damage riusciamo a fare. 1.400 danni. Da tenere presente, però, che la Q di Galio scala del 9% della vita massima dei nemici. Avendo 10.000 HP, 900 danni glieli fa solo per questo. 900 danni, però, più che dimezzati dai 100 Magic Resist dei manichini. Gli Eddie Gary, avendo meno della metà della Magic Resist del manichino, forse subiranno sui 1.000 danni? Boh. Guardate la build. Abbiamo preso la Leech Bane, Zonia, Rabadon, Abyssal e Voidstaff. Questo è full AP, ossia la massima potenza, la massima forma della trollata finale dell'Apocalisse. Ora, proviamo un po' i danni con la full build. Ricordiamo quindi la full combo. Q ed E. 3.000 danni con 100 resistenze. Senza usare la ulti e senza usare Ignite. Ovviamente potrete dire, sì, siamo full AP e quindi buttandoci con questa combo moriremo dopo aver killato qualcuno. Beh, sì, è vero. Quindi pensiamo un po' ad una strategia di teamfight. Immaginateci sono i soliti due coglioni che stanno pushando un po' troppo e i nemici li stanno per acchiappare. Voi da bravi eroi fighi non fate un cazzo e aspettate il momento giusto per ultare. Perché voi, cioè, non dovete trovarvi in midi e ne farvi uccidere. Dovete ultare all'improvviso. Quindi cercate di ultare sul vostro compagno più vicino ai nemici. E sbada bim e sbada boom avete già fatto un teamfight da soli. E se magari non missate la Q come me fate pure più danni. Senza ulti metti invece la vostra combo sarà così. Preparate la Q e la E come al solito. Zonia per aspettare il cooldown della Q e per resistere. Subito di nuovo Q alla fine della Zonia e avrete già fatto 5000 danni. Così, come se niente fosse. Nel frattempo il vostro team farà qualcosa mentre voi siete in Zonia. Quindi voi avete fatto il vostro danno e i vostri compagni penseranno al resto. Si spera. Per quelle situazioni invece quando non si sa che cazzo fare vi ritrovate in mid lane a raffoccare. Galio è perfetto. Perché con una Q guardate quanto danno ad aria fa. E ha comunque un ottimo range. Fa molto danno ad aria. Ed è anche facile da prendere. Galio è un noob champ. Perché non ha skillshot difficili. Basta soltanto non fare cazzate con la ultimate e con l'ingaggio. Memorizzate i danni massimi della sua full combo, full build. Sono 3044 danni con la sua combo. Senza elisi reattivo perché mi è scaduto e mi scoccio ad andarlo a rifare. Ora vediamo Blitz. Tutti sapete che il danno della R nessuno mai se l'aspetta. E sapete che Blitz rank AP fa veramente tanto danno. Perché l'avete visto nei miei video e perché l'avrete provato. Guardate la full combo di Blitz invece. Quanto danno fa? Allora, grab, auto attack e ed ulti. Con anche un full 1000 di passiva. 2908 danni. Ora, in difesa di Blitz possiamo dire che Galio ha la Q che scala dei 10.000 HP del nemico. Quindi forse fa più danno. Il problema è che Blitz ha degli skillshot più difficili. Hanno più cooldown. E soprattutto Galio non ha ultato. Ovviamente Galio è stato pensato per essere un AP of tank top plane tipo Maokai. Ma hanno considerato il fatto di renderlo un AP mage. Perché infatti Galio è sempre stato un AP carry mage fino ad ora. Ma il suo kit di mosse lo vuole tank. Cioè ha un taunt. Quindi ragazzi noi porteremo Galio full AP e trolleremo a merda. Wow, che figa questo dubstep. Quasi quasi mi iscrivo al canale. Anzi condivido pure il video. No vabbè questo è troppo. Ma si lo faccio dai porca troia.